A raggiunga, a raggiunga, non succederà più. Buongiorno, buonasera, bentornato. Tutto bene? Sì. Le vacanze? Perfetto, ma al solito. Suo padre? Tutto a posto. Bene. Vi ho preparato? Massimo, ve lo faresti un favore? Hai anche il coraggio di chiedermi un favore? Dimmi. Senti, dovresti mandare Tiziana al numero 6. E perché? Diciamo che c'è una persona che non vorrei vedere. Sai quante persone vorrei io non vedere al giorno, compreso te? Due rigatori al tavolo 4. Due rigatori 4. Cosa beviamo? Ma sei impazzito? Sei licenziato? Mi dispiace, guardi. Mi dispiace infinitamente. Chiamate qualcuno.